La Notte della Luna aprirà domani sera la ventesima edizione del Festival delle Invasioni, uno spettacolo inedito per Cosenza prodotto dalla compagnia stabile dei Sonics, tra le prime al mondo del teatro acrobatico Eveo. La Notte della Luna sarà il primo di una serie di appuntamenti articolati nelle tre sezioni, beni sognati, beni suonati, beni parlati, di cui si compone il cartellone di invasioni legato al CLEM stagioni d'estate e presentato a Palazzo dei Bruzzi dal vice sindaco Iole Santelli, insieme agli assessori Loredana Pastore e Matilde Spadafora Lanzino, al dirigente del settore cultura Giampaolo Calabrese e a Eva Catizzone, componente dello staff del sindaco. Presente anche il dirigente dell'Amaco Paolo Posteraro, l'azienda per la mobilità garantirà un servizio navetta per consentire comodi spostamenti fino a tardanotte. Avremo Rocco Papaleo, avremo vari momenti importanti in Piazza Duomo, artisti importanti come Carl Brave, ma soprattutto intense giornate di immersione in una musica più da giovani, quella che io almeno ho definito musical social. Parliamo di artisti con dai 13 milioni ai 20 milioni di visualizzazioni, quindi molto conosciuti. Un momento di grande musica a Cosenza, ma soprattutto un momento che speriamo crei grande identità e grande comunità nella città e che renda il tutto attrattivo verso gli altri.